ciao a tutti e benvenuti un video dedicato a barbie questo è un secondo video dedicato a barbie color river sirene già un giorno ho fatto un video dove ho aperto un barattolo e ho trovato una bellissima sirena allora queste sono le sirene che si possono trovare e sono tutte veramente belle io ho questa qua ho preso un altro con ovviamente un codice diverso si presuppone che dovrebbe uscire una sirena diversa le confezioni vediamo vediamo allora questa è la nostra barbie e infatti è diversa molto bella pure questa ok adesso dobbiamo vedere che colore ha quindi la mettiamo nell'acqua belle capelli rosa e bianco così adesso scopriamo il colore della fuda di se particolare ok vediamo dovrebbe passare il viso è molto bello ecco qua lo lasciamo così così poi dobbiamo scoprire come sarà la coda ma nel frattempo apriamo gli altri oggettivi la spazzola la collana ah questa è la spagnetta per per il viso e queste sono le pinne allora sto finaccia oh come è bella bella mamma mia allora queste sono tutte le sirene allora io ho questa e quindi ho trovato questa bella vabbè poi sono tutte belle in effetti quindi non è che la brutta non c'è l'importante è non trovare doppio eccola qua eccola qua molto bella è il costumino col disegno delle conchiglie e poi questa coda glitterata un po' rosa un po' verde un po' verde bellissima ah la collana bella questa c'ha proprio il viso di Barbie bella molto bella si ha proprio il viso di Barbie questa che in effetti è anche bionda con le sfumature rosa ed ecco la mia seconda sirena color revel molto molto bella anche questa bene io spero che il video vi sia piaciuto vi mando un bacione e alla prossima ciao ciao ciao